Buongiorno, ben ritrovati e ben ritrovati, anche in questo momento dell'anno in cui siamo tutti più rilassati, abbiamo la fortuna di persone che ci danno la loro disponibilità e vengono a trovarci nei nostri studi. Questa mattina parliamo di Covid-19, non è certo un argomento nuovo, ma lo analizzeremo dal punto di vista della sicurezza e lo faremo con un imprenditore che ha creato dei dispositivi che addirittura ci ha portato in studio e di cui ci parlerà proprio per l'uso che ne verrà fatto da parte dei più piccoli, in particolare le scuole materne e le scuole elementare. Andiamo anzitutto a salutare e ringraziare di essere con noi il nostro ospite, si tratta di Leonardo Borinato. Buongiorno, Leonardo Borinato è un imprenditore, un imprenditore della provincia di Vicenza, è un imprenditore che prima di occuparsi di sicurezza da Covid-19 che cosa faceva? La nostra azienda, la Borinato Security SRL, si occupa di sistemi di sicurezza, in particolare di videosorveglianza. Come tutti durante il periodo della chiusura per il Covid abbiamo dovuto un attimo ricercare quali fossero i nuovi sbocchi e quali fossero le nuove possibilità di business per la nostra azienda e anche chiaramente analizzando il momento di mercato che si era creato e abbiamo trovato uno sbocco nell'introduzione sul mercato, nella proposta di prodotti per la prevenzione Covid. Diciamo che la sicurezza è un po' nel vostro DNA, anche se ovviamente da punti di vista molto diversi. Per cui insomma siete arrivati a creare, ad elaborare un nuovo tipo di prodotto che tra l'altro potrete vedere anche una volta che viene inquadrato il nostro ospite, ci sono proprio delle vere e proprie sagome, delle figure ad altezza reale, cioè per come appariranno. Noi parliamo di sicurezza, abbiamo intitolato questa puntata sicurezza per i più piccoli perché dicevamo questi dispositivi vengono messi a disposizione dei bambini. All'inizio dell'emergenza si diceva, ah no i bambini è difficile che vengano contaminati, anzi possono essere degli untori, non è assolutamente vero perché anche loro corrono dei rischi. Sì, allora partiamo dall'inizio di questa nuova forma di business. Qualche tempo fa, a marzo, quando il mercato ha cominciato a richiedere sistemi di prevenzione, in particolare la misurazione della temperatura tramite i nostri partner asiatici, abbiamo introdotto sul mercato il rilevatore di temperatura, che è questo dispositivo, che noi abbiamo fornito anche in molti ospedali del Veneto, proprio per la rilevazione della temperatura all'ingresso, quindi visitatori e dipendenti hanno la possibilità di rilevare la temperatura. È stato preso in dotazione anche da molte aziende. Di qui siamo passati poi alla fase successiva, quando abbiamo sentito che il prossimo problema sarà la riapertura delle scuole. Avendo io una bambina piccola ho detto, ok, ma non è così semplice spiegare a un bambino che tutte le mattine si deve misurare la temperatura, come era balenata l'idea che doveva essere misurata a casa, però mi metto nei panni di genitori che sono di corsa e devono portare i bambini a scuola. Spesso arrivano anche in ritardo perché si è sempre di corsa, quindi non è una cosa che è possibile dare incarico ai genitori. L'altra cosa è che è bene che i bambini si igienizzino anche le mani dal momento che sappiamo benissimo che i bambini toccano un po' tutto. Abbiamo creato delle sagome di altezze diverse, una forma di orsetto per le scuole materne, una forma di boy scout per le scuole elementari che praticamente rendono l'igienizzazione delle mani e la misurazione della temperatura una sorta di gioco. Deve essere un gioco. Abbiamo fatto un esperimento grazie al supporto del compressorio scolastico della Bagliona dove noi abbiamo la sede, abbiamo praticamente posto l'orsetto, abbiamo chiamato 4-5 bambini con cui abbiamo fatto anche un video e questi bambini abbiamo visto che la reazione alla vista dell'orsetto era proprio un gioco, anche perché appare la loro immagine e apparendo la loro immagine stanno lì, si misurano la temperatura, mettono la manina all'interno del braccino dell'orsetto e in quel caso viene la goccina di gel per poi igienizzarsi. Chiaramente andranno adottati dei gel con il pH idoneo ai bambini, però sono soluzioni complete che installate all'ingresso dell'ambiente scolastico, quindi il punto in cui arrivano i genitori con i bambini, oppure quel punto in cui i bambini scendono dagli autobus, ogni bambino passa davanti e in un tempo che va da 1 a 2 secondi viene scansionata la temperatura e dice se il bambino ha temperatura regolare oppure no. Questo per evitare come sta succedendo la messa in quarantena di intere classi, piuttosto che come sta succedendo adesso con i centri estivi, so di bambini, di genitori che hanno comunicato al pediatra il fatto che il proprio bambino avesse la febbre e il pediatra ha aperto la segnalazione con la messa in quarantena dell'area del centro estivo. Quindi tutti i problemi che ne derivano. Messo in un'aula scolastica il problema, immaginiamo che disservizi può causare e che problematiche crea anche alle famiglie. Noi abbiamo fatto nel nostro piccolo e per quello che riguarda il nostro settore che è il settore elettronico, abbiamo pensato a una soluzione che possa rendere semplice e piacevole il controllarsi la temperatura anche per i bambini. Poi è molto funzionale anche perché non c'è bisogno di un operatore, no? No. Cioè si fa tutto. E anche per quanto riguarda l'installazione non richiede l'intervento di un tecnico specializzato sul posto in quanto la colonnina arriva praticamente già completamente assemblata e basta che una persona che si occupa della manutenzione scolastica colleghi la spina. Quindi è molto semplice. Stiamo ricevendo varie richieste da vari istituti, soprattutto istituti privati attualmente perché sono svincolati da quello che sono i fondi pubblici, diciamo. Però diciamo che è uno strumento che sta addestando molto interesse. Beh crediamo perché ricordiamo insomma questo strumento viene impiegato come dicevamo nelle scuole materne e nelle scuole elementari. No, con tutto il cancan che si è fatto per le superiori, i banchi, le distanze, cioè un sistema del genere cautelerebbe nel senso si verifica subito la condizione del singolo e potrebbe addirittura essere steso anche ad altre realtà, insomma. Allora, per le scuole medie, superiori e anche per le università diciamo, esiste una colonnina che è la classica colonnina con il detergente alla quale è applicato lo scanner, ok? Lì non siamo andati a creare il prodotto che dovesse incentuare il bambino perché stiamo già parlando di altra età, ok? Anche l'altezza è diversa, però per i bambini la novità è questa nel senso del rendere giocoso il proteggersi, la prevenzione. Ma diventa anche una forma di educazione, di disciplina anche per loro. Sì, anche perché abbiamo notato ultimamente che comunque sta entrando nella normalità, il fatto di usare l'igienizzante quando si entra in un nuovo ambiente o usare la mascherina quando si è in ambienti affollati, ok? Quindi tutto questo sta entrando un po' nella normalità, è più difficile farlo capire a bambini tra i 3 e i 10 anni, ma se glielo rendiamo più semplice e più piacevole magari lo fanno volentieri. Insomma diventa anche una procedura, non diciamo un rito, ma insomma un qualcosa che diventa automatico, per cui anche il ragazzino o la ragazzina insomma impara, perché magari è anche una lezione di insegnamento per i genitori, insomma perché vedono i loro figli che praticano appunto tutte queste forme di igienizzazione e diventa istruttivo anche per loro. Da genitore mi metto sempre nei panni della mattina c'è fretta, comunque non gli misurerai la temperatura, sento di genitori che la babysitter non è disponibile, dai gli dono attacchi pirina, poi si vedrà a caso mai mi chiamano dalla scuola e magari anche se ha qualche linea di febbre lo mandano a scuola lo stesso, cioè c'è tutto un insieme di cose che poi magari ti trovi con mezza classe ammalata, quindi c'è tutto un insieme di cose che si vuole andare a evitare insomma. No, no, anzi sono situazioni abbastanza, scusa, abbastanza sgradevoli, no e con questo tipo di sistema si ovvia anche a tutte quelle procedure che si dimenticano inevitabilmente alla mattina quando non è la fretta, se poi i figli cominciano ad essere più di uno, insomma pensare a tutti. Sì infatti, siamo arrivati a un punto della trasmissione in cui vediamo cosa possiamo fare perché i colleghi ci stavano dando indicazioni, noi procediamo con la trasmissione, siamo in compagnia di Leonardo Borinato, lo ricordiamo è un imprenditore della provincia di Vicenza e ci sta illustrando attraverso le due sagome che ci ha portato in studio diciamo l'efficacia e anche la piacevolezza, ecco vedete l'orsetto nel filmato che dimostra proprio l'uso di questo dispositivo. Sì, questo dispositivo, vediamo anche i ragazzini, è stato realizzato il video di cui parlava Leonardo Borinato, beh immaginiamo abbiate avuto una partecipazione entusiasta da parte dei ragazzi insomma che penso trovino estremamente stimolanti queste situazioni. Abbiamo visto proprio come lei ci spiegava, proprio all'altezza della zampetta sinistra dell'orso c'è proprio il foro per inserire la mano e per igienizzarsi. C'è un dosatore no touch, ok? Quindi non c'è neanche da fare la pressione per far uscire il liquido igienizzante, basta solo infilare la mano e viene rilevata la presenza e rilascia la goccia di gel. Seda, lei ci ha parlato di questi scanner, voi siete partiti da quelli no? Sì, noi siamo partiti dagli scanner, praticamente quando li abbiamo proposti hanno avuto subito un successo, siamo stati i primi in Italia a proporre un prodotto del genere, tanto che ne abbiamo consegnati più per 5 mila siti quasi. Caspita! Molti in Veneto, siamo stati presi in considerazione anche da parte dell'ASL del Veneto, abbiamo avuto il piacere di poterne donare uno alla sede della protezione civile, abbiamo incontrato il presidente Zaia che ci ha accolto e abbiamo donato una colonnina in collaborazione con un'azienda che si occupa appunto con noi della costruzione fisica delle colonnine che è la T3 Progetti di Vicenza e gli abbiamo donato sto termoscanner appunto per il personale della protezione civile, per gli uffici della protezione civile. Con il termoscanner abbiamo, il termoscanner non è solo rilevatore di temperatura, ok? Per le aziende ad esempio può mantenere lo storico delle letture, quindi mantiene uno storico nel tempo delle letture, c'è sempre in Italia, dobbiamo sempre fare attenzione soprattutto negli ambienti di lavoro, ok non succede sul fatto, ok non succede niente ma se succede di chi è la colpa, ok? Bene, allora da imprenditore nei panni appunto di tutti gli imprenditori che hanno dei dipendenti dico, ok non posso far sì che uno non sia mai, ok? Però quello che posso fare è fare di tutto perché non succeda in azienda e prendere tutti i provvedimenti possibili. Quindi mettendo a disposizione quelli che sono gli strumenti consigliati, nonostante non vi sia un obbligo di misurazione della temperatura, ma vi è un consiglio di misurazione, sappiamo bene che questo è molto sottile perché se non succede niente va tutto bene, ma se succede c'è sempre un capo che molto spesso diventa l'imprenditore, ok? Nonostante uno magari se lo sia preso perché è andato a ballare, ok? Quindi è uno strumento da mettere a disposizione dei dipendenti, del personale, delle aziende magari. In molte sedi comunali ce l'hanno richiesto proprio per l'accesso agli uffici comunali, quindi magari sono dotati di porte automatiche, lui ha la possibilità di comandare le porte automatiche, quindi si apre solo se la persona che arriva ha la temperatura regolare, altrimenti non mi consente neanche l'accesso. Quindi c'è tutta una serie per gli adulti dove c'è l'obbligo di mascherina, perché l'obbligo di mascherina mi sembra che sia dai 6 anni in su, ok? Per gli adulti praticamente rileva anche la presenza di mascherina, quindi mentre per i bambini abbiamo disattivato la rilevazione della presenza di mascherina, per gli adulti c'è la rilevazione della presenza di mascherina, quindi io entro nell'ambiente solo se ho la mascherina e ho la temperatura regolare. No, no, molto interessante tutto quello che ci sta raccontando, interessante anche il fatto dello storico, qui faceva riferimento, per cui diciamo all'interno del termoscanner hai una specie di database su quello che le persone hanno fatto, come si sono presentate, lo stato di salute, molto interessante. Diciamo che è una evoluzione di quella che è la vostra tecnologia nel tempo e in un tempo anche piuttosto breve, perché insomma lei mi parla di marzo, per cui quando eravamo nel pieno dell'emergenza, insomma oggi siamo nel mese di agosto, insomma sono passati 4-5 mesi, sappiamo che magari alle volte per sviluppare determinate tecnologie ci vogliono anche dei tempi. Ma d'altra parte è stato tutto velocissimo, noi ci siamo trovati da, ok, il virus è solo in fine gennaio, prima di febbraio, poi c'è stata una parentesi del non arriverà mai in Italia, poi abbiamo tutte le aziende, ok? E ancora adesso ci sono aziende che stentano a riprendersi, ok? Chiediamo a questo punto a Leonardo Borinato, qual è stata l'evoluzione, partendo da questo termoscanner siete arrivati al dispositivo che ci presenta questa mattina in studio. Sì, come dicevo all'inizio praticamente, nel momento di chiusura un po' di tutte le aziende, essendo che comunque noi per il nostro lavoro e per il settore videosorveglianza abbiamo i nostri fornitori che sono per lo più asiatici per la produzione del materiale elettronico, loro si sono trovati molto prima di noi ad affrontare il problema. Tramite questi contatti siamo riusciti a reperire un prodotto da poter proporre sul mercato italiano. Chiaramente non era idoneo fin dall'inizio perché per molti aspetti, in quanto in primis non rispettava neanche la possibilità di rispettare le normative GDPR, ok? In più gli standard di temperatura erano leggermente diversi. Con i giusti accorgimenti e collaborando per quasi un mese siamo riusciti a renderlo idoneo al mercato italiano. Lo abbiamo iniziato a proporre, siamo stati tra i primi a metterlo sul mercato e a proporlo. È stato un boom immediato in quanto non c'erano altri che lo stavano reperendo perché tra l'altro era un momento in cui da molti paesi c'era richiesta per un prodotto similare e stavano venendo a mancare i componenti principali che rilevavano la temperatura, ok? Quindi c'era una difficoltà di approvvigionamento anche. Noi avevamo il nostro fornitore che invece non aveva problemi di approvvigionamento, quindi siamo stati velocissimi a metterlo sul mercato. Chiaramente con il passare del tempo man mano che arrivavano le richieste dalla clientela lo abbiamo perfezionato. Attualmente abbiamo un prodotto affidabile che stiamo fornendo tramite varie formule anche a noleggio o acquisto. C'è anche la possibilità di noleggiare. Si chiama noleggio operativo di 2, 3, 4, 5 anni. Insomma uno decide la formula del noleggio, questo per andare incontro a quelle aziende che dicono sì ma magari non voglio affrontare immediatamente una spesa così e chiaramente andando incontro con una piccola spesa mensile riescono comunque a fornire un grado di sicurezza. Sì anche perché crediamo che nel momento, questo benedetto mese di settembre in cui dovrebbe avvenire tutto e il contrario di tutto, c'è la riapertura delle scuole che insomma... Sì questo è il problema più grosso attualmente, mettere in sicurezza la riapertura scolastica. Poi si parla di un ritorno di questo virus nel periodo influenzale, quindi novembre, dicembre, ottobre, novembre, dicembre, lì speriamo non sia così ma essendo il ceppo influenzale la vedo dura che non ci si caschi dentro un'altra volta, non vogliamo essere ottimisti, speriamo che non succeda niente soprattutto per l'economia che sta attraversando un periodo veramente tosto ma... Sì più che altro ecco anche da parte dei decisori che non ci siano dei provvedimenti tipo un lockdown perché pensiamo che l'economia italiana di fronte al nuovo lockdown sarebbe in grossissima difficoltà. No, in grossa difficoltà ci sono aziende che non sanno neanche... che non sanno né se riapriranno e stanno lavorando per modo di dire... sento molti imprenditori dei vari gruppi che dicono va bene chi me lo fa fare di continuare con le attività, soprattutto magari pensiamo quelle imprese direte da persone di una certa età che sono vicine alla pensione e dicono ma chi me lo fa fare di portare avanti un'attività magari non hanno neanche i figli che portano avanti l'attività per loro, quindi non lo vedono neanche in un'ottica futura, chi ci rimette poi è tutto l'indotto anche dei dipendenti e quant'altro, quindi non si tratta solo dell'azienda che magari chiude o quindi dell'imprenditore che decide di chiudere l'azienda, è proprio un indotto che viene a mancare attorno a ogni singola azienda, che sia di 1, 2, 3, 5 dipendenti, 100 dipendenti, ma è sempre comunque un indotto di famiglie che girano intorno alle imprese. Sì appunto, poi se cominciano a mancare gli anelli della catena, la catena non sta più per conto suo, insomma i piedi, diventa veramente tanto tanto difficile. Però insomma, dobbiamo dire, la fortuna aiuta gli audaci, è vero, lei ci spiegava che le risorse le avete avuto disponibili quando magari ad altri queste risorse non esistevano per altri, per cui diciamo avete fatto di necessità virtù, approfittando anche di un momento di difficoltà e diciamo questa è la soluzione migliore anche proprio in prospettiva, perché non sembra la soluzione del momento, sembra una soluzione studiata proprio anche da un punto di vista della lungimiranza. Sì, noi la vediamo come, ok, comunque è un problema per le scuole, comunque per le scuole è un problema quando qualcuno, e io lo vivo da papà, ok, mi trovo la bambina che periodicamente durante tutto il periodo invernale magari una o due volte mi sta a casa qui 3, 4, 5 giorni con qualche linea di febbre. Ti informi con la classe e ti accorgi che metà classe è a casa con influenza, ok? Questo è un problema che c'è da sempre, non è legato solo al Covid, ok? Con il Covid si è amplificata la cosa. Prendiamo questo problema, portiamolo in tutte le fasce scolastiche, quindi scuole materne, scuole elementari, scuole medie, scuole superiori ed eventualmente anche università e vediamo che c'è proprio una sicurezza da portare avanti, ok? Poi, vedendo l'esperienza di altri paesi, una volta che si adottano dei sistemi di prevenzione e la gente, la popolazione si abitua a utilizzarli, diventa una prassi. Sì, sì, è vero. Ok? Cioè, io vado in un posto, non mi devono neanche più scrivere che mi devo misurare la temperatura all'ingresso, perché di prassi mi par strano che non me la misurino. Sì, sì, sì. Anzi, diventa il contrario, diventa la situazione che ci... Sì, si tratta solo di entrare in un'ottica diversa, misuro la temperatura, poi è chiaro che come in tutte le cose, eh, ma lo Stato ci controlla, eh, ma diciamo gli haters ci sono in tutto, ok? Noi non vogliamo controllare nessuno, ok? Eh, non è un controllo, i dati restano, eh, sono coperti da privacy, non viene memorizzato niente, se non la sola lettura della temperatura e basta, ok? Quindi, hai la febbre, stai a casa, non hai la febbre, puoi entrare, punto. L'unica osservazione che volevo farle è, per, chiamiamolo la manutenzione, il controllo di queste apparecchiature, dal punto di vista della taratura, dal punto di vista, insomma, se funzionano, cioè c'è un, ovviamente una prassi da seguire, c'è un tecnico specializzato che segue anche questi apparecchi? Allora, tutti quanti gli apparecchi, eh, tutti quanti gli apparecchi hanno una taratura a 37,5 che sono le, è la soglia di temperatura prevista dalle normative, diciamo, consigliata, diciamo, no? Indicata, perché poi non c'è obbligatoria, non si può neanche dire obbligatoria perché è consigliata, ok? Sono due cose diverse. Sì. Di fatti c'è stato un po' un casino all'inizio, perché mai obbligatorio, mai consigliato e questa cosa crea sempre quella forbice che dicevamo prima tra, non era obbligatorio farlo, ma ti do la colpa perché non l'hai fatto, ok? Quindi, niente, allora, sono tarati a 37,5, ok? Il dispositivo si autoambienta, cosa vuol dire? Che quando io collego la temperatura ho 10 minuti di tempo e lui in 10 minuti calcola la temperatura ambientale e si ambienta. Essendo una misurazione cutanea, ok? La misurazione cutanea è diversa dalla misurazione interna o misurazione ascellare. Sì. Tende a essere un pochino più alta e in più è soggetta al fatto che arrivo accaldato e mi spara un po' più alto come temperatura, perché misura, allora si consiglia l'ambientamento, soprattutto con questi caldi che ci sono in sto periodo. Ma il dispositivo di suo, messo in una posizione, si autotara in base all'ambiente in cui si trova. Poi da lì fa la rilevazione. Pensavamo anche al discorso, scusi, della temperatura corporea, il bambino tende a muoversi, insomma non è possibile. Sì, sì, no, ma lui parla, abbiamo inserito le voci da bambino, c'è una voce tipo cartone animato, ok? E gli dice vieni un pochino più vicino, rimani fermo, c'entra un po' la fronte, ok? C'è proprio la sagomina, c'è una guida vocale, sì, 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 c'è una sagoma dove il bambino deve mettere la sua faccia dentro la sagoma, ok? Praticamente il dispositivo è dotato di una telecamera frontale più di un rilevatore termico, ok? Quindi la telecamera serve proprio per far sì che il bambino individui la sua posizione del viso. Il sensore termico gli misura la temperatura sulla fronte. Ho capito. Ok, è una doppia telecamera, una fa la videoanalisi, quindi analizza la presenza o no di mascherina, nel caso dell'orsetto è una funzione disabilitata, perché appunto non è necessaria, mentre il sensore termico appunto gli rileva la temperatura. Perché ricordiamo magari chi si fosse messo all'ascolto da poco, che queste due sagome che il nostro ospite Leonardo Boninato ci ha portato in studio, una è per le scuole matene, per cui è più piccolina, l'altra un po' più grande, diciamo di statura, è per le scuole elementari, comunque sempre per i più piccoli praticamente. Sì. Sono dispositivi molto importanti, crediamo, appunto per quello per cui si diceva in prospettiva insomma diventa una buona pratica, perché al giorno d'oggi si parla di buone pratiche, ma queste sono buone pratiche, di modo che ognuno anche mentalmente abbia quella disciplina per cui sa che deve sottoporsi a una determinata prassi che poi diventa in automatico. Sì, ma basta immaginare semplicemente, non so se siamo abituati adesso, entriamo in un negozio e vediamo che c'è a disposizione il gel, senza neanche pensarci, almeno per quanto riguarda me, mi viene da metterci le mani, schiaccio e mi detergo le mani, insomma me le disinfetto, diventa una prassi poi. Certo, no, no, quello senz'altro. Noi siamo in conclusione di questa trasmissione che è stata molto importante dal punto di vista delle spiegazioni che ci ha fornito il nostro ospite, Leonardo Borinato, al quale oltre che ringraziarlo, auguriamo buon lavoro. Grazie, grazie mille. Grazie al nostro ospite Leonardo Borinato, alle Sagom che ci ha portato in studio, grazie a voi per averci seguito, appuntamento per i prossimi momenti di Sette in Punto. Buona giornata e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.